Avrebbe detto Lincoln se volete che vi parli per 5 minuti avrei avuto bisogno di 10 ore di preparazione quindi siccome non ho avuto queste 10 ore di preparazione provo a riassumere la mia esperienza del laboratorio dal basso in pochissime parole e vi dico Geniale Partecipazione Bellissima esperienza Formativa e entusiasmo anteriore Mi sono venato in mezzo se così si può dire Spidante Collaborazioni in rete con tutte le persone dai docenti ai frequentanti Geniale Ultima Penso che sia emozionante Mai nessuno ha pensato a qualcosa che nascesse dal basso Divertente Davvero coinvolgente Pazzesca Se la mia esperienza è stata sicuramente sorprendente Sicuramente di passare dall'altra parte del banco per diventare tu stesso il creatore di un corso di formazione e due sogni L'aspettibilità delle competenze acquisite Idea che non si era mai vista La sete di contenuti viene diciamo colmata da tutte queste iniziative Generativa L'esperienza che si è presognato e che puoi realizzare finalmente Sarà una sfida interessante Grazie a tutti Grazie al forno